Un consiglio, chiamiamolo un favore, perché a quanto pare c'è stata forse qualche telefonata, qualcuno che ha voluto che ci spostassimo di lì, che l'azione cattolica si spostasse di lì. C'è tutte le parrocchie che fanno queste iniziative, ma anche in passato si facevano per la festa della Madonna, insomma tante iniziative su strada, voglio dire. Che altro mi è sembrato un po' strano, cioè non mi è mai successo in realtà, io non ho nulla con l'amministrazione, sono in perfetta armonia, quindi voglio dire anche nel passato con un'altra amministrazione non mi è mai successo nulla di tutto ciò. Io prima di fare una cosa preferisco essere quanto più possibile al sicuro e purtroppo la burocrazia oggi, forse una volta non esisteva questa burocrazia di oggi, però è giusto che le cose si facciano bene, si facciano con le giuste richieste.